Una conferenza stampa per fare chiarezza sugli interventi attuati dalla regione Abruzzo e in diversi settori operativi con particolare riferimento al territorio della Marsica. Il tutto per evitare che certi personaggi politici si appropriino del lavoro di altri. Il riferimento, senza troppi giri di parole, è stato all'assessore della Valle Perigna Gerosolimo. Questo, in estrema sintesi, l'esito dell'incontro che si è tenuto oggi nella sede municipale di Avezzano, che ha visto la presenza del Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, del Vice Presidente della regione Giovanni Lolli e del Consigliere, nonché Presidente della Commissione di Attività Produttive, Lorenzo Berardinetti. I tre studenti politici hanno subito chiarito che, a distanza di tre anni dall'insediamento dell'attuale governo regionale, per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco e per fare totale chiarezza, si è reso necessario esporre le cose fatte per il territorio marsicano in tema di progettualità, a partire dai 3 milioni e 250 mila euro previsti per l'innovazione delle piccole e medie imprese in un sistema locale di area di crisi non complessa dopo anni di preoccupazioni per il futuro di centinaia e centinaia di lavoratori. In questo contesto è stato fatto riferimento ai 3 milioni di euro di finanziamento per la Health Foundry, che ora, dopo l'accessione del 70% delle azioni, alla SMIC potrà guardare al futuro con rinomato vigore e con prospettive più che buone. Ed ancora, Micron, con il centro di ricerca in forte crescita, Telespazio del Fusilo e Dallena di L'Aquila, che hanno avuto accesso a importanti progetti di sviluppo tecnologico. Coalpa, che avrà la forza di andare avanti con le proprie tecniche innovative. L'azienda Aureli, che è una realtà nel panorama mondiale per i suoi investimenti nel settore dell'innovazione in agricoltura. Saes e Fiam, pronte per un rilancio in grande stile. Discorso a parte, per le vertenze Burgo e Vesuvius inserite nel contesto della legge 181. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un'azione corale delle forze politiche di maggioranza della Regione, dei sindaci dei territori, del sindacato e delle forze sociali. Questo quadro ha avuto un ruolo importante di coordinamento e stimolo, l'azione dei componenti del progetto Marsica, gruppo di lavoro formato tra gli altri, dal rappresentante del Comune di Carzoli, da Giovanni D'Amico, portavoce del Presidente del Consiglio regionale, Angelo Salucci, Sergio Natalia e Sergio Santucci. Ora le interviste con il Presidente del Consiglio regionale di Pangrazio, il Vice Presidente Giovanni Lolli ed il Presidente della Commissione di Attività Produttive, Lorenzo Berardinetti. Una conferenza convocata soprattutto per fare chiarezza. Ne parliamo con il Presidente e con il Vice Lolli per capire un po' il senso di questa conferenza stampa, cioè l'importanza di attribuire alla politica, in questo caso alla maggioranza, l'impegno che è stato profuso per il territorio. No, l'impegno che i rappresentanti istituzionali di questo territorio, spronati dall'amministrazione comunale e dall'amministrazione della Marsica, riescono attivando gli assessori competenti, in questo caso l'assessore Lolli, Vice Presidente dell'Aggiunta regionale, sul lato degli incentivi per la ripresa occupazionale. I 3.250.000 euro deliberati, dove già sono state emanate le linee guida, il 12 maggio uscirà il bando definitivo sul Bura, sono frutto di un lavoro sinergico fatto dagli amministratori di questo territorio, dal gruppo di lavoro Progetto Marsica, dal sottoscritto del collega Berardinetti, con l'aiuto fortemente voluto del Vice Presidente Lolli. Altri che danno informazioni così qua e là a spot, a intermittenza, rischiano di mettere confusione soprattutto presso gli imprenditori che devono poi usufruire di questi finanziamenti e partecipare ai batti. Quindi oggi per fare chiarezza sotto l'aspetto tecnico di che cosa e di quali sono gli incentivi per le imprese nel nostro territorio regionale, ma anche per fare chiarezza che non va mai confusa l'attività amministrativa istituzionale con ciò che riguarda la partecipazione a campagne elettorali, tutto qua. Ognuno faccia il suo lavoro e lo faccia bene, non vada in giro a fare confusione in altri territori. Nel caso specifico mi riferisco all'assessore Gerosolimo, che farebbe bene a lavorare di più, ad essere più presente, a pensare di più, a proporre leggi, allo sviluppo dei territori regionali e meno ad andare in giro qua e là dicendo cose che non gli appartengono, ma soprattutto appropriandosi del lavoro degli altri. Stia a casa sua, faccia bene il lavoro a casa sua, nella Valle Peligna, che ha tanto bisogno di aiuto, aiuto che noi, io come Presidente del Consiglio, do tutta la maggioranza e cosa che lui dovrebbe fare meglio. Pensi a fare le cose per bene, non ad andare in giro e raccontare frottole alla cittadinanza. Lolli, allora, tre anni di lavoro l'ha messo in risalto, in cui la Regione ha profuso energie preziose, ma soprattutto ha ottenuto risultati importanti. Intanto te la presenti, le faccio complimenti perché lavora molto, quasi nell'ombra. Complimenti. Sì, io cerco di fare le cose perché penso che noi, insomma, siamo ben pagati esattamente e scelti dai cittadini esattamente per fare questo. Ora, noi abbiamo molto lavorato e continueremo a farlo, credo anche con un metodo giusto, cioè che è quello di raccogliere, ascoltando, quello che il territorio ci chiede. Quando parlo del territorio parlo, soprattutto, dei consiglieri regionali del territorio, che sono l'espressione. Parlo dei sindaci, a partire dal sindaco di Avezzano, naturalmente, e parlo però anche delle imprese e dei sindacati. Abbiamo fatto molte riunioni e cerchiamo sempre di dare conto. Ora, la situazione della Marsica era gravissima. Non è diventata una situazione florida, rimangono tanti punti di difficoltà e tanto da fare. Però, nel sistema delle imprese principali, alcuni problemi sono stati risolti anche brillantemente. Penso all'impresa più importante, che è il Foundry. Altre imprese, come la Burgo o la Vesuvius, che hanno attraversato una crisi drammatica, siamo di fronte a due bei progetti industriali. Noi li sosterremo tutti e due, anzi, io ho già detto che, grazie al fatto che abbiamo inserito la Marsica nelle aree di crisi, e quindi, o suffrisce la 181, e grazie al fatto che la 181 ha una riserva di fondi non molto grande per accordi di programma, io non posso finanziare decine di accordi di programma. Ne finanzierò due in Abruzzo, e lo posso, lo dico qui, come lo dico in qualunque altra parte d'Abruzzo, scegliamo, partiamo da questi due progetti, perché sono progetti particolarmente maturi e significativi. Ma poi qua ci abbiamo Telespazio, ci abbiamo il sistema agroalimentare, ci abbiamo un'azienda splendida come la Saes, tutte aziende sulle quali, o alcune di queste aziende, sulle quali abbiamo fatto investimenti. Io ricorderò che il più grande investimento che la Regione ha fatto, con le risorse che transitano nei nostri uffici di fonte comunitaria, è un progetto, è un finanziamento che abbiamo dato al progetto di El Foundry, della cogenerazione, più di 3 milioni. Quindi, continuiamo a lavorare. Il bando che sta per uscire nei prossimi giorni, e che durerà 45 giorni, è un bando che si rivolge alle piccole imprese, perché noi dobbiamo pensare alle grandi imprese, medie e grandi, ma dobbiamo pensare anche a questo tessuto, molto diffuso nella Marsica, di piccolissime imprese, che ha una grande vitalità, però sta in grande sofferenza, soprattutto perché, diciamo, ha un difficile accesso al credito, e anche a quelle dobbiamo pensare con serietà. Lorenzo Berardinetti ha partecipato alla conferenza stampa, e mi sembra che l'ha fatto con grande responsabilità e intuizione, perché è coinvolto in un sistema di partecipazione per il rilancio del territorio. Diciamo che, inizialmente, quando ci siamo iniziati nel 2014, il primo atto raggiunta che fece regionale, il riconoscimento della 107.rc, escludendo la Marsica. Da là abbiamo iniziato, o iniziato, come Presidente della Commissione di Attività Produttive, un percorso che ci ha permesso di arrivare ad oggi, il riconoscimento dell'area ordinaria di crisi, grazie anche al supporto e l'apporto di Giovanni Lolli, la storia delegata. Inizialmente, questa esclusione della 107, configurava che nessuna impresa poteva accedere ai contributi nazionali. Io facevo interpellanza in Consiglio regionale, Lolli si attivò e rispose che da qui a breve sarebbe partito il riconoscimento della richiesta ordinaria, e si è iniziato un percorso che ci ha permesso, sia tramite la 181 nazionale, sia il riconoscimento per quanto riguarda le aziende di accedere ai contributi nazionali della 181, con un investimento minimo di milione e mezzo di euro, sia adesso che è stato approvato con il bando regionale, la 181 regionale, diciamo, un riconoscimento, il bando uscirà il 12 maggio per le aziende piccole, perché l'investimento parte da 50 mila euro fino a 500 mila euro, e permette alle piccole aziende di poter accedere ai finanziamenti nell'amarsi. Una buona boccata di ossigeno? Una buona boccata di ossigeno per le aziende, anche perché le aziende, diciamo, grandi come la Vesuvius o come la Burgo, sono state aiutate, sono state aiutate in un percorso che permette, con la partecipazione della regione, di trovare una soluzione per poter ricreare quell'attività invenditoriale per le aziende e occupazione, tanto guarda la Vesuvius e la Burgo. Questa scuola è custode dei valori di un'antica cultura contadina trasmessa dai vostri nonni e al tempo stesso è erogatrice di innovativi saperi finalizzati a garantire la qualità e la sicurezza dell'alimentazione. Con queste parole, il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, ha salutato questa mattina gli oltre 1.100 allunni dell'Istituto Superiore di Popparozzi di Teramo che annovera gli indirizzi alberghiero, agrario e commerciale. A ricevere il Presidente, oltre alla dirigente scolastica e dai rappresentanti del corpo docente e non docente dell'Istituto, una nutrita rappresentanza di studenti che hanno mostrato ad Alfonso una loro creazione artistica che sintetizza l'arte figurativa con la coltivazione delle piante, una composizione di lente di varie specie vegetali caratteristiche dell'Abruzzo che sono inquadrate in una cornice che può essere collocata in una parete. D'Alfonso, che ha visitato i vari laboratori di chimica e di fisica, i gabinetti botanici e i siti di coltivazione, si è intrattenuto a lungo con gli studenti a cui ha chiesto quali fossero i programmi per il loro futuro. da vivere, ha detto, con una professione che può dare soddisfazioni e garantire la conservazione e la diffusione della qualità e della tracciabilità in tutto quello che costituisce la nostra alimentazione quotidiana. Al termine della visita, il Presidente della Regione ha chiesto alla dirigente scolastica di trasmettergli al più presto una dettagliata mappa di tutti gli interventi di manutenzione di cui l'Istituto avrebbe necessità. Dopodiché, gli sarà impegnato a reperire i fondi per provvedere ai loro lavori necessari. Una struttura così bella e immersa nel verde delle immediate periferie della città di Termo ha detto merita tutte le attenzioni e di costruire un punto di riferimento per i cittadini anche al di fuori dell'orario scolastico. Ascoltiamo a riguardo cosa ha dichiarato il Presidente della Regione D'Alfonso. Tempo migliore della mia agenda e non solo perché incrocio rispetto a questo desiderio una passione antica ma anche perché mi accorgo che qui trovo realtà trovo progetto di vita ambizione ed entro nel merito di questioni che se affrontate e risolte davvero costruiscono una società migliore e un Abruzzo migliore. Poi mi complimento con i ragazzi che ho conosciuto che sono intervenuti con questa comunità di insegnanti che davvero sente un rapporto morale con l'attività lavorativa e poi anche con il dirigente scolastico che io continuo a chiamare preside. E poi la missione educativa di questa scuola è una missione di straordinaria modernità anche tenendo da conto dove è nata l'economia agraria nel centro sud ha a che fare con l'Abruzzo e dell'Abruzzo ha a che fare con Teramo. i ministri del Regno erano ministri che concepivano lo sviluppo dell'economia attraverso l'estrazione della potenzialità della terra. I comizi agrari nascono qui ad opera di Giuseppe De Vincenzi di Notaresco e mi piace moltissimo essere venuto all'interno di queste mura che sono una scuola storica per cercare di capire come procede l'educazione con finalità di economia agricola. A lei piace molto il mondo appunto dell'agricoltura tanto che a quanto pare tornerà veramente a scuola prenderà la qualifica di perito agrario. Dunque mi sono iscritto ad agosto farò l'esame come operatore agricolo e poi dovrò fare l'ulteriore step. Sto studiando trovo la materia difficilissima ancora più difficile il diritto penale che ce l'ho proprio in testa. Parto con una passione per la filosofia e la storia delle istituzioni politiche incrocio la storia delle infrastrutture ma mi sono dovuto adattare a studiare anche il diritto penale. Adesso sto conoscendo questo nuovo amore che è per l'economia agraria. Il Castello Orsini di Avezzano ha ospitato oggi un interessante ed attualissimo convegno dal titolo Sicurezza stradale abuso di alcol e droga organizzato dal Lions Club Avezzano insieme al sindacato di Polizia di Stato e rivolto essenzialmente ai giovani studenti delle scuole superiori della città. Infatti sono stati presenti gli allunni delle ultime classi del liceo artistico Bellisario del liceo classico Torlonia del commerciale Galilei ed Elites Majorana. Per l'occasione sono stati concessi crediti formativi agli studenti dell'ultimo anno agli avvocati e dal personale della Polizia di Stato. Tra gli altri sono stati presenti il prefetto dell'Aquila Giuseppe Lunardi il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio Paolo Cesta dirigente della forzia stradale dell'Aquila la senatrice Stefania Pezzopane Alberto Ravanetti segretario regionale del sindacato della Polizia di Stato. Le relazioni sono state tenute da Roberta Davoglio magistrato del Tribunale dell'Aquila e da Carla Lettere della Camera minorile dell'Aquila. Per il Lions Club sono intervenuti Gabriella Rosci officer del service dedicato ai giovani e del presidente Eliseo Palmieri. Il moderatore è stato il giornalista Luca Bergamotto. È intervenuto Mingo Di Pasquale artista eclettico volto storico del panorama televisivo attore e conduttore ex inviato di Striscia la Notizia regista del cortometraggio L'Anniversario che è stato proiettato in sala sul tema della sicurezza stradale. Ha destato a molta curiosità la presenza all'esterno del castello Orsini di una fiammante macchina Lamborghini un bolide che supera i 300 km ora che la polizia utilizza per casi di estrema necessità. Nel corso dei vari interventi i relatori hanno parlato di tutti gli aspetti che coinvolgono la sicurezza stradale e il comportamento dei giovani che deve essere sempre improntato alla prudenza per evitare spiacevoli conseguenze. In questo senso le azioni sinergiche della classe politica e dei rappresentanti delle forze dell'ordine hanno permesso negli ultimi anni di ottenere ottimi risultati in tema di prevenzione. Ora la intervista è con Alberto Ravanetti segretario regionale del sindacato della Polizia di Stato Gabriella Rosci officer service dell'Aons e la segretrice Stefania Pezzopane. L'impegno del sindacato nel contesto di una sicurezza stradale che interessa tutti i cittadini ma soprattutto gli automobilisti. Sì, noi siamo il SIA per il sindacato italiano appartamenti di Polizia una delle maggiori e più rappresentative organizzazioni sindacali della Polizia di Stato. Io sono il segretario regionale e organizziamo tante manifestazioni su questi problemi che purtroppo interessano i giovani quindi lo facciamo sulla sicurezza stradale sull'abuso di alcol e di droghe che purtroppo sono fenomeni ricorrenti. Noi siamo sindacalisti ma siamo anche poliziotti quindi ci troviamo spesso in situazioni molto gravose quando siamo in incidenti stradali e in pochi momenti noi dobbiamo decidere tantissime cose dobbiamo essere ingegneri psicologi dobbiamo fare i rilievi dobbiamo pensare addirittura se arrestare una persona e togliergli la propria libertà se ha fatto abuso di alcol e droga e noi questo messaggio vorremmo lanciare ai ragazzi innanzitutto il valore della vita ma in secondo luogo tutti i pericoli a livello legislativo quello che vanno incontro come addirittura che dopo una serata passata in discoteca si trovano dentro una galera quindi il messaggio deve essere forte ma deve essere anche deciso. nonostante l'impegno vostro ma anche delle istituzioni purtroppo il fenomeno continua a creare la prensione il fenomeno c'è noi cerchiamo quando noi ogni volta vediamo un incidente di questi purtroppo crediamo nel nostro fallimento che non siamo riusciti in quello che noi dobbiamo fare noi dobbiamo fare prevenzione non dobbiamo fare repressione e quindi con questi incontri noi cerchiamo di sensibilizzare soprattutto i giovani cioè coloro che saranno diciamo il nostro futuro ha il rispetto delle regole perché le regole salvano la vita e loro devono capire il valore della vita perché purtroppo i ragazzi adesso sono empirici prima fanno le cose e poi ci pensano adesso noi dobbiamo con questi incontri che facciamo ci sforziamo e cerchiamo di ottenere qualche risultato ma sicuramente sì perché li sto vedendo adesso in aula sono molto attenti infatti la sensibilizzazione è importantissima e vedo che anche sono attenti a seguire i vostri consigli certo li ascoltano speriamo che abbiamo i nostri risultati noi questo ci auguriamo una battuta soltanto avete una Lamborghini che fa 300 euro però lei ha detto di usare molta prudenza in macchina sì sì molta prudenza rispettare i limiti questa viene usata da chi innanzitutto la sa guidare e con dei presupposti non serve correre allora l'impegno dell'Allianz nel sociale ma soprattutto anche in questo caso in un convegno che coinvolge la sicurezza dei giovani sì allora è motivato dalla consapevolezza che la prima causa di mortalità dei giovani sono proprio gli incidenti stradali quindi molti di questi determinati dall'abuso di sostanze stupefacenti oppure di alcol o anche ancora dal mancato rispetto dei precetti normativi quindi una corretta informazione significa anche portare avanti una campagna di prevenzione i ragazzi sono molto intelligenti sono molto sensibili tante cose non le considerano pensano sempre che un incidente una cosa possa capitare agli altri invece fargli vedere delle immagini delle cose vere accadute quello che succede effettivamente quando uno si pone alla guida di un veicolo poco lucido quindi perché è abusato di alcol o sostanze stupefacenti oppure perché utilizza il telefonino quindi vedere le conseguenze magari può essere può costituire un deterrente cercare di salvare e certo anche la disattenzione le distrazioni insomma sono tutte noi cerchiamo è una piccola cosa che i Lions fanno ma sempre destinati alla salvaguardia dell'incolumità fisica ma dei giovani poi anche degli adulti comunque è importante che lo fate anche con le forze dell'ordine che poi sono tutti i giorni sulle strade certo certo perché i Lions molto spesso stimolano o comunque si pongono o coadivano con le istituzioni per portare avanti campagne tipo questa abbiamo fatto anche contro il bullismo un altro convegno che c'è stato qualche tempo fa all'Aquila la violenza contro le donne quindi cerchiamo di stare a fianco alle istituzioni un po' anticipato la domanda che volevo fare cioè i Lions non guardano solo a questi aspetti qui ma anche altri che riguardano proprio la sociale il coinvolgimento dell'Aquila tutti i giorni cioè il vostro impegno non è solo finalizzato ad alcuni aspetti no no i Lions comunque noi il nostro motto è we serve noi serviamo dove c'è un bisogno lì c'è un Lions lo fate chiedo scusa senza scopo di lucro assolutamente diciamo siamo oltre 2 milioni di persone in tutto il mondo che con spirito di volontariato di solidarietà offrono mettono a disposizione degli altri chi il proprio talento la propria professionalità le proprie competenze anche il proprio denaro però ripeto senza alcun fine di lucro per puro spirito di servizio e di volontariato Stefania Pezzopane scrive moltissimo però si fa vedere veramente ad Avezzaro come noi no vengo spessissimo non sempre con le telecamere accese ma vengo per seguire molte vicende e alcune delle quali anche con molto successo penso alla proroga dei tribunali che è stata una bella battaglia con una bella vittoria almeno per i prossimi tre anni e adesso sono qui perché il centro del dibattito promosso dal sindacato di polizia è l'omicidio stradale una legge da me fortemente voluta sono una delle proponenti di questo nuovo testo approvato lo scorso anno dopo un ampio dibattito che inserisce un nuovo reato sostanzialmente che è appunto quello di omicidio stradale che è un aggravante dell'omicidio colposo ovvero sia nelle condizioni di assunzione di alcol o droghe e incidente conseguente alla guida con assunzione di alcol e droga e questo diventa un aggravante con ovviamente pene molto più sostenute e con l'applicazione di norme molto più rigide e siamo allora a un anno di distanza dall'approvazione della legge e cominciamo a verificarne gli aspetti positivi il numero degli omicidi per l'appunto è diminuito e anche degli incidenti mortali e con gravi danni alle persone però bene fa il sindacato di polizia promuovere iniziative dove si mettono tutti i soggetti attivi intorno al tavolo perché non basta una legge serve l'educazione serve far capire a ragazzi ma anche agli adulti che non bisogna assumere sostanze o bere e poi mettersi alla guida del mezzo che non bisogna distrarsi col cellulare che quando si guida si ha un'arma in mano e quell'arma può essere molto pericolosa per se stessi e per gli altri la sinergia è importante fra le istituzioni e poi che effettivamente sta sulla strada tutti i giorni assolutamente sì della macchina non possiamo fare a meno un mezzo di cui ci serviamo costantemente va usata bene perché per l'appunto può diventare un'arma pericolosissima e quindi ci vuole l'educazione stradale ci vuole l'educazione a rispetto delle norme questi ragazzi questa mattina sembrano molto recettivi e molto capaci di comprendere che ne va della loro vita quindi quanta più sicurezza si segue nella propria guida e nel controllo del territorio e tanti più effetti positivi ci saranno e naturalmente le forze dell'ordine sono i primi a fare la constatazione dell'incidente sono quelli che devono avvertire i familiari sono quelli che devono seguire le prime le prime fasi poi c'è il giudizio e quindi è un percorso complesso e ci vuole la massima collaborazione da parte di tutti per l'anno 2015 l'indicatore LEA per l'Abruzzo che fotografa i livelli essenziali di assistenza sanitaria si attesta a 182 punti includendo per il secondo anno consecutivo la regione Abruzzo tra quelle pienamente adempienti a ufficializzare il dato comunicato lunedì dal Ministero della Salute è stato questa mattina a Pescara l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci rispetto al 2014 ha evidenziato registriamo però un ulteriore balzo in avanti centrando un traguardo che mai era stato raggiunto nella storia dell'Abruzzo questo risultato certifica l'efficacia degli sforzi e delle riorganizzazioni che questo governo regionale ha messo in atto non senza difficoltà per migliorare la qualità dell'assistenza offerta ai nostri concittadini tra il 2009 e il 2015 il punteggio Lea è passato da 120 a 182 punti con all'incremento più consistente tra il 2014 e il 2015 pari all'11,7% e per il 2016 e il 2017 ha aggiunto l'assessore Paolucci l'impegno è a migliorare grazie ad una serie di misure che andranno ad impattare sulla prevenzione e sulla farmaceutica per quanto riguarda l'area ospedaliera oltre all'allarme target lavoreremo anche sulla riduzione del numero dei parti cesari e sulla tempestività degli interventi al femore entrando nel dettaglio del punteggio 2015 i risultati più importanti riguardano la prevenzione veterinare e l'assistenza distrettuale resta buono il punteggio dell'assistenza ospedaliera ma ascoltiamo l'assessore Paolucci Assessore in 7 anni un balzo di ben 62 punti nel 2009 eravamo a 120 nel 2015 gli ultimi dati disponibili siamo a 182 che cosa significa? intanto che sono migliorate le cure e peraltro va sottolineato che soprattutto nell'ultimo anno il balzo è stato davvero molto significativo soprattutto sull'area della prevenzione l'area territoriale distrettuale a significare che ovviamente ci sono cure più appropiate ma anche di qualità non lo attesto io lo attesta il Ministero della Salute che nell'ultimo verbale sottolinea come nell'Abruzzo si sia registrato nel corso del 2015 un ampio miglioramento sulla qualità delle cure io credo che possa essere motivo comunque di apprezzamento Assessore lei ha detto che nel tavolo di monitoraggio sono state sollevate criticità rispetto ad alcuni aspetti contabili della gestione della sanità quanto conta l'attestazione però di questo balzo in avanti dei LEA anche per migliorare i conti? Certamente sono collegate però io aggiungo anche che non è che ci siano criticità sulla parte del contabile un verbale del tavolo di monitoraggio in tutte le regioni solleva e accende dei riflettori su delle questioni però trovo davvero anche stucchevole un dibattito politico fatto sulle note di credito dell'anno 2012 di una singola o di ciascuna delle asle insomma non è quello il succo del verbale del tavolo di monitoraggio il tavolo di monitoraggio va bene quando ci si attesta quel risultato e si dice che incassiamo una premialità altrimenti non sarebbe chiamata né premialità e non ci verrebbe erogata ed è di stata di 70 milioni nell'ultimo tavolo un faro acceso sulle aree di crisi non complesse con finanziamenti in conto capitale in favore di quelle imprese che vogliono investire sul territorio è il punto centrale dell'avviso che la regione Abruzzo pubblicherà domani sul Burat nell'ambito del Porfers 2014-2020 a disposizione delle imprese ci sono 16 milioni di euro che sono stati suddivisi nelle nove aree di crisi non complesse individuate dalla giunta regionale lo scorso novembre questo bando sulle aree di crisi non complesse ha spiegato il vicepresidente Giovanni Loli apre la strada a quelle imprese già esistenti e di nuova costituzione che vogliono investire su aree in particolare difficoltà queste aree sono state destinate aree di risorse che sono state divise secondo criteri oggettivi senza alcuna nostra discrezione l'agevolazione che abbiamo previsto nell'avviso per le imprese prosegue Loli è costituita da un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile per progetti da 50 a 200 mila euro cosiddetto in de minimis l'intervento previsto dalla regione nell'ambito del FERS si va ad aggiungere a quello nazionale previsto sempre per le aree di crisi finanziato dalla legge 181 per progetti superiori a 1,8 milioni di euro e gestito da Invitalia l'avviso aggiunge il vicepresidente prevede investimenti anche su innovazione e ricerca ed elemento nuovo anche per adeguamento sismico la pubblicazione del bando sulle aree di crisi ha dato la possibilità all'Olli anche di spiegare lo stato di attuazione del FERS 2014-2020 sul FERS stiamo rispettando i tempi di attuazione che abbiamo condiviso con l'Europa nessun ritardo e le cifre lo confermano le candidature da parte delle aziende possono essere presentate fino al 28 giugno ecco l'elenco delle aree di crisi finanziate Teramo 3 milioni Avezzano 3,250 milioni Sulmona 1,6 milioni Penne 1,2 milioni Chieti 3,5 milioni L'Aquila 2,5 milioni Giulianova 460 mila euro Vasto 360 mila euro e L'Ortona 80 mila euro ora il vicepresidente Lolli Presidente Lolli 16 milioni di euro per le aree di crisi una boccata d'ossigeno per queste zone della nostra regione Sì cerchiamo di capire bene di che stiamo parlando Per iniziativa del governo sono state in tutta Italia delineate le cosiddette aree di crisi semplice Sono dei parametri che il governo ha dato indicando alle regioni di scegliere le aree sulla base di una certa perimetrazione fatta dall'Istat si chiamano i sistemi locali del lavoro Noi abbiamo potuto mettere siamo la regione che è riuscita a ottenere il più alto numero diciamo circa metà avriamo a 600 mila abitanti metà del territorio regionale classificato come aree di crisi e distribuito un po' fra tutte le province naturalmente sulla base di quelle aree che noi potevamo indicare perché il governo le aveva inserite in quelle indicabili sulla base dei parametri economici lì opera in queste aree di crisi opera la legge 181 che è una legge nazionale il bando è già uscito ne usciranno altri che è una legge diciamo che premia la gestisce in vitalia finanziamenti superiore a un milione e mezzo noi abbiamo accompagnato a questa legge un milione e mezzo non è la portata di tutte le aziende naturalmente un nostro intervento con 16 milioni di euro per fare sulle stesse aree premiare le attività cosiddette in de minimis cioè con investimenti da minimo 50 mila euro fino a un massimo come dice l'Europa di 200 mila euro e cioè abbiamo abbiamo cercato di andare incontro a quel problema drammatico nella nostra regione particolarmente pesante nella nostra regione che è la difficoltà che hanno il sistema delle piccole imprese che pure è il nerbo diciamo della nostra economia a trovare i soldi per fare investimenti in nuove tecnologie e anche in diciamo in ricerca e comunque in attività industriale generica la cosa è particolarmente significativa perché noi abbiamo voluto inserire nella parte rendicontabile quindi finanziabile anche interventi che le aziende fanno sul proprio plant sul proprio stabilimento per quanto riguarda il miglioramento sismico perché insomma in questa regione ci è sembrato indicare anche questa attività sono 16 milioni di euro e una cosa importante vorrei segnalare siccome c'è stata qualche discussione ogni tanto leggo sui giornali che non c'è nessun ritardo considerato quando siamo partiti siamo partiti tra l'ultimo gruppo di regioni diciamo noi ci troviamo a fare questo è il terzo bando che facciamo sul FESR e gli altri due sono già uno si è concluso quello per i grandi progetti quello in dei minimi sulla ricerca è tutto rincorso adesso arriviamo con questo e poi ci saranno gli altri abbiamo già messo in campo più di 40 milioni di euro siamo perfettamente in linea con quanto stabilito dal programma e con quanto negoziato con l'Europa credo sia una buona notizia io devo dire che sulla vecchia programmazione l'intervento che abbiamo fatto sulle aree di crisi allora c'avevamo la Valle Peligna in modo particolare che è stata l'ultima area che abbiamo occupato il risultato è stato ottimo e cioè il numero di imprese che ha partecipato è stato superiore alla dotazione quindi noi ci aspettiamo che anche in questo caso ci sia una grande risposta che assorbirà interamente le risorse e qualora le assorbisse tutte le risorse potremo eventualmente ragionare su collocare altre risorse ancora